Dottoressa Donati, a cartello 41 la stangata per le imprese è 110 miliardi nel 2022 rispetto a prima della pandemia. Cosa succede nei cantieri ad esempio? I cantieri rischiano di fermarsi perché dobbiamo ricordare che siamo a valle di un aumento dei prezzi che va avanti da fine 2020 e quest'anno solo per l'aumento dei costi energetici abbiamo valutato con il Centro Studi dell'Ance che i costi di cantiere sono aumentati del 35% da prima dell'estate e quest'anno solo per il cadere di energia le imprese hanno anticipato 5 miliardi di euro di tasca propria e poi ricordiamoci che il decreto aiuti che è stato varato prima di quest'ulteriore rincaro in tarda primavera scade a fine anno quindi noi rischiamo a gennaio 2023 di avere tutti i cantieri chiusi perché le imprese non potranno di tasca loro continuare a sopperire a questi aumenti dei costi. Angelica Donati, per le aziende cosa significa questo periodo e questo piano di cingolari? Allora è chiaro che un comportamento di buonsenso per gli individui che giustamente a casa sapranno conservare meglio l'energia non si può tradurre sulle aziende che devono produrre, in particolare quelle energivore noi come comparto abbiamo un doppio problema che è quello nostro diretto ad esempio le aziende che fanno infrastrutture hanno macchinari molto pesanti quelli o li accendi o non li accendi, non è che c'è alternativa e in più tutta la filiera, i nostri fornitori sono particolarmente energivori le acciaierie e tutta un'altra serie di produttori che o producono o non producono e volevo anche dire, si parla tanto del PNRR che è sicuramente il nostro lume di speranza dopo la crisi del Covid eccetera eccetera ma il PNRR necessita di aziende che lo implementino quest'anno, è importante sottolineare, spenderemo solo due terzi dei fondi allocati e quindi dovrebbe aumentare la spesa dell'anno prossimo ma se le aziende falliscono ora, nel 2023 non ce ne saranno per mettere in cantiere questi lavori Prego No, volevo solo aggiungere, ci mancherebbe anche perché se le imprese falliscono poi non so come farà la gente a portare a casa lo stipendio non credo che lo Stato si possa accollare ulteriori bocche da sommare ma poi vorrei anche aggiungere da cittadina credo che oggi stiamo implementando dei sistemi virtuosi di buona cittadinanza che forse in altri paesi fanno da anni, da decenni e quindi è anche una buona pratica per noi da prendere a prescindere dalla crisi energetica Piccola pausa, Laura Gobetti Grazie